Domani San Valentino si rinnova la festa degli innamorati tra vetrina addobbata e qualche disincanto. Nell'era dell'amore su Facebook c'è chi ancora prende un treno per raggiungere l'amato, come la 14enne rintracciata oggi dalla polizia ad Avola, scappata da Milano e ora riaffidata alla madre. E in molte città italiane si susseguono iniziative, a Bologna si pianta un albero, a Verona si riscrive a mano l'opera più famosa Romeo e Giulietta e a Torino e Catania mostra prezzi scontati. Ma per molti se il cuore batte, batte tutto l'anno. Vabbè, secondo me è una festa inutile perché comunque l'amore è tutti i giorni. Oggi San Valentino più che una festa tra innamorati mi sembra una festa un po' consumistica. No, non mi piace per niente. È una bella festa, anche se secondo me l'amore non si dovrebbe manifestare un giorno solo, bensì tutto l'anno. Credo che servirebbe più che una festa commerciale una vera e propria manifestazione. Da domani sarà poi in circolazione il nuovo francobollo postale del valore di 95 centesimi con l'immagine del patrone e gli innamorati.